di gioco quindi un errore che poteva costare caro con il già battuto crea con scambio con fortuna giorgigno fortuna palla in mezzo e giorgigno la mette dentro due a due Augusta toglierà stato tolto qualche minuto fa con questo sul fronte opposto vertice d'attacco sinistro sempre Leandro Almitra però sul pallone scambia con Rescia palla di ritorno ancora da destra di Rescia palla in rete ottima combinazione sinistro sempre Leandro Almitra però sul pallone scambia con Rescia palla di ritorno per il nostro corso di Rescia palla in rete ottima combinazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti